Sono trascorsi i 70 anni da quel 27 gennaio 1945, quando le truppe dell'Armata Rossa arrivarono ai cancelli del campo di concentramento tedesco di Auschwitz, ad ovest di Cracovia, nel sud della Polonia, e liberarono migliaia di persone, sopravvissuti, malati e moribondi. In seguito ad una risoluzione ONU, proprio in questa data viene celebrata la giornata della memoria in ricordo della Shoai di tutti coloro che persero la vita a causa della folle distruzione perpetuata dai nazisti in nome del razzismo. È necessario conoscere per non dimenticare, per questo motivo il sindacato pensionati della CGL ha voluto organizzare un incontro dal titolo Liberi per la dignità, che si è svolto nella Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta, al quale ha preso parte il segretario generale del SPI CGL nazionale, Carla Cantone. È importante conoscere per poter ricordare e tramandare a tutte le generazioni gli orrori di 70 anni fa, quello che è successo in Europa e nel nostro paese. Ricordare vuol dire anche lottare per far sì che quello che è successo allora non debba più succedere. Devono sapere più di noi quello che è avvenuto. La scuola insegna molto, ma non basta. Questo rapporto con gli anziani è importante per capire quello che è successo, per capire quanto è importante la pace e la libertà per vivere in dignità. E loro che hanno un futuro davanti, devono sapere che la loro dignità dipende dalla democrazia e dalla libertà. Quindi mai più fascismo, mai più nazismo, mai più campi di concentramento. L'appuntamento organizzato risponde alla stessa finalità della giornata della memoria. Conoscere per capire, dunque per non dimenticare. E questo, spiega la Cantone, è un messaggio che deve arrivare a tutti, soprattutto ai più giovani.